Io vengo da Ancona, sono interessato al corso di chimica. Io invece vengo da Porto Recanati, sono interessato al corso informatica. Marzocca. A che corso sei interessato? Matematica. Sono qui appunto alla presentazione dei corsi, vedo com'è e anche per spiegarmi un po' gli alloggi, il campus, come funziona. Un giorno alla scoperta dei corsi Unicam. L'Università di Camerino ha aperto le porte delle sue strutture, aule e laboratori agli studenti che vogliono scoprire l'offerta formativa dell'Ateneo, che per il nuovo anno accademico vede delle novità. Con due corsi di laurea nella sede istituzionale qui a Camerino, nuovi che partiranno, in particolare Scienza dei Materiali e Tecnologie Diagnostiche per i Veni Culturali. Sono due corsi di laurea molto importanti che si mettono in linea con attività di ricerca e attività per il territorio altrettanto importanti. Un'altra cosa che andremo a realizzare presto è un centro di ricerca per la ricostruzione. Questi nuovi corsi che noi di cui parlavamo, insieme anche a quelli tradizionali, rappresentano appunto una possibilità di nutrire il territorio di competenze che saranno poi necessarie proprio per la ricostruzione, per la ripresa, che dovrebbe essere il più veloce possibile. Così, dopo la registrazione e la presentazione dei corsi di studio e dei seminari, i partecipanti all'Open Day hanno potuto visitare le strutture didattiche dei corsi a cui sono interessati. La giornata è proseguita con il pranzo offerto da Unicam nella mensa universitaria e con la visita alle residenze universitarie e agli impianti sportivi. Un'occasione per immergersi e scoprire tutte le possibilità offerte dalla vita universitaria. Cerchiamo di farli vivere a pieno questa esperienza, dando loro l'opportunità di fare un pranzo a mensa, di vedere gli alloggi, di vedere gli impianti sportivi, quindi di essere un po' studenti per un giorno. Poi sono curiosi di sapere invece come si struttura la vita universitaria in termini di socialità e questo è un motivo per cui li mettiamo in contatto con gli studenti universitari che possano raccontare le loro esperienze.